...e fare il servizio di uno di costruzioni, la formazione, la città di Città, di appropriarsi dei beni comuni, la madre, la città di un'altra, la città di un'altra, la città di un'altra, la città di un'altra, ci piangono a procedere generazioni senza futuro, che non vogliono pagare la crisi, che si sottraggono alla retorica della responsabilità generale del debito, che immaginano un'alternativa di società a partire dalla restituzione radicale delle ricchezze e dalla condivisione delle risorse comuni. Siamo il 99% del pianeta e non siamo disposti a subire la limità di pochi. Non sono le ginaglianche, quelli che vedono centinaia di milioni di persone come noi, vittime della speculazione di canale, ma solo le regole del piano. Se le regole sono giuste, allora bisogna cambiare. Se il gioco è fuggato, bisogna uscire dal gioco. Il debito pubblico è tagliato, ma lo stesso discorso vale per qualunque altro paese, per l'87% è dedicato da grandi istituzioni finanziarie, che cresce continuamente grazie a meccanismo da osservare. Lo stesso libero-mercato è una funzione. TNL fa parte del gruppo Bypass, che tra le cinque sima e le cinque banche, che controllano il 90% dei titoli dei dirati sul mercato finanziario.